Definiti i gironi di eccellenza, le tre Irpine, Cervinara, Sant'Ommaso e Solofra, come da tradizione, si ritroveranno nel raggruppamento B. Nello stesso gruppo, anche le nobili degatute, Sorrendo, Battivagliese, Nole, Bolitane e Palmese, con loro Castel San Giorgio, Sant'Agnello, Santa Maria Cilentori, Rinascita Vico, San Vito Positano, Faiana e Valdiano, formazione allenata dell'ex Lazio Manfredini. Tiramato anche il calendario, alla prima giornata, il Cervinara di Ciaramella, Befi e Zerrillo affronterà tra le Muramiche il Sant'Agnello. Il Sant'Ommaso, che quest'anno ha inserito elementi importanti in organico come Balzane e Pingue, dovrà vederseli invece con il San Vito Positano in trasferta. Così come il Solofra di Messina, impegnato sul campo del Castel San Giorgio. Il big match di giornata sarà Sorrento-Battivagliese. In programma anche Bolitana-Santo Maria Vico, Palmese-Faiano, Picciola-Nirascita Vico e Valdiano-Nola. A margine della cerimonia di presentazione dei calendari di eccellenza, il commissario straordinario Cosimo Sibilia ha comunicato che i gironi del campionato di promozione verranno diramati solamente nella giornata di giovedì.